Salve! Eeeeeee! Aspetta, ma dove siamo? Appunto, dov'è che siamo? Siamo in un posto abbandonato Cioè, in realtà non ci siamo ancora, dobbiamo arrivare Però Siamo abbastanza vicini Infatti, dovrebbe essere esattamente Quello Questo sì che è importantissimo Qui ci sarà la posizione E' più facile di così No Stai registrando? Ehi E' il buco Ci siamo Poi ci butteremo da qui Poi ci butteremo da qui Poi ci butteremo da qui per scendere più velocemente Ricordate che chi non mangia pincer E' la pecorina Ricordate che chi non mangia pincer Ricordate che chi non mangia pincer E' la pecorina Cosa è che è lei? Ci sono più o meno 3 o 4 malattie 3 o 4 malattie 3 o 4 malattie, dici? Cosa c'è? C'è un po' di gianta C'è un po' di gianta Nella feritoia si intravedono alcuni oggetti E quello è un... C'è un ombrellone Ok qua Qua arriva la parte bella Che non è questa Ecco appunto Qua c'è tipo il fico C'è più fico di fico che fico Nooo Ho ho ho, che è questa sorpresa? Sì, vado in bagno! Cosa? Va davvero lo fa? Fra, guarda quanto non è stabile una cosa da dare. Vedi la tra... no vabbè, va alla trabe. Va alla trabe, non è fattibile Fra. Lui ho messa così. Lui ho messa così. No, prima non era messa così. Come non era messa così? Ma l'avete visto quanto è... quanto è poco spesso? E poi qua c'è lo schifo. Oh mio Dio però! Quale è il problema di passare da qua? È bruttissima, la situazione in cui sei tu è bruttissima. Non lo so, quello è più difficile. Madonna, che strano vedere. Vero? Io sono molto in sabbia. Vabbè dai, io devi passare dal posto dove dice Albi. Più che altro ti ricordo che quando arrivi là sei scivoli vai dritto dritto in questa punta. Proprio perfetto. Per curiosità, guarda anche com'è qui prima di qua. Eh l'ho già visto. Eh va bene. Non c'è un altro passaggio? Ehm, c'è un passaggio, c'è un ascensore. Guarda. Eh sì, io no. Ma il problema è... Vuoi farlo davvero? Vabbè io intanto ti registro, fai quel cazzo che vuoi eh. Io voglio. Poi la registrazione non so. Se muori non so, la faremo. F***. 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 No, Davide non rende tanto, dalla realtà è brutta. Ah Fran, in realtà non è neanche così stretto quanto pensavo. Eh vedi, da qua giù è molto meglio. Appunto. Vedi, vedi, ce l'ho detto. Andiamo, voi fate quello che vuoi. C'è, ma stiamo scherzando. Morro! Cazzo! Però voglio fare il timelapse con la mia. Voglio fare il timelapse con la mia. Aspetta! Eh, ok, già va bene. Grazie a tutti. 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 Ok, perfetto. Arrivederci. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Perché è stagione, non lo so.